Il Cineform è un progetto che coinvolge le classi terze della Domilani e l'obiettivo è quello di far avvicinare i ragazzi a dei temi interculturali attraverso il cinema. Tutta l'attività è volta a organizzare un compito autentico particolarmente motivante che è quello di una serata Cineform appunto rivolta alle famiglie. Partecipa a questa attività tutto il consiglio di classe con particolare coinvolgimento dei docenti di storia e geografia, lingue straniere, italiano e musica. Utilizziamo circa 25-30 ore curricolari ma in un periodo di tempo limitato di circa 2 massimo 3 settimane per cui le ore previste, le lezioni previste vengono sostituite dall'attività di Cineform. Organizziamo l'attività in questo modo, da prima sono i docenti che scelgono due film appunto a tema interculturale e che abbiano possibilmente come protagonisti dei giovani coetanei dei nostri alunni. I ragazzi vengono quindi questi due film, i docenti organizzano delle attività di approfondimento e quindi sono i nostri alunni che scelgono quale presentare alle famiglie. Da questo momento comincia l'attività di preparazione della serata, divisi in gruppi preparano degli approfondimenti su dei temi che poi possono essere usati come base per la discussione con le famiglie. E poi c'è la serata conclusiva, quindi la serata del Cineforum, gestita completamente dai ragazzi che devono quindi organizzare il dibattito ma essere anche autonome in tutti i momenti della serata appunto. La prima fase dura circa 15 moduli, 15 ore, la seconda di preparazione una decina di ore e prevediamo anche una prova filmata perché oltre a valutare le competenze civiche e sociali e la consapevolezza espressione culturale riguardo ai temi trattati, valutiamo anche le competenze di comunicazione. Che cos'è un laboratorio per i ragazzi? Secondo loro questo è stato un laboratorio in cui i suoi sono impegnati divertendosi. Durante l'attività di preparazione hanno approfondito degli argomenti e nella maggior parte dei casi sono stati lasciati liberi di scegliere gli argomenti che preferissero approfondire e hanno poi imparato a dialogare tra di loro, a rispettare le idee degli altri e a cercare una soluzione comune ai loro problemi. Hanno trovato la motivazione per apprezzare degli aspetti della cinematografia sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista culturale. Hanno sicuramente arricchito il loro lessico, sia quello tecnico che quello poi dell'esposizione al pubblico che è stata molto importante sicuramente per loro. Sono già 11 anni che il progetto è proposto alle classi, in modalità anche nuove a seconda della composizione dei gruppi classe e del loro percorso. Vengono valutate a volte, vengono valorizzate anche culture presenti in classe a seconda degli anni e teniamo logicamente conto anche di momenti storici, problematiche sociali attuali, anche dall'apporto del territorio abbiamo organizzato delle collaborazioni, per esempio con la Croce Rossa e logicamente anche del panorama cinematografico negli ultimi anni. Grazie a tutti.